Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con Brawl Stars Lo so che questa intro sarà iniziando a diventare ripetitiva, se no non sopporterete più la mia voce ogni volta Però signori, quando avrò una nuova ispirazione cambieremo la intro Detto questo signori, oggi siamo tornati su Brawl Stars, prima di partire con il video vi ricordo di iscrivervi al canale Se vi sto simpatico, se vi sto antipatico non iscrivetevi E vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando al mio canale E alle serie che porto Vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto su Instagram, dove mi trovate come Maullo941 In cui tramite le stories vi aggiorno sulla programmazione dei video che usciranno sul canale E sulle live che andremo a fare sia su questa piattaforma che sull'altra, quella viola Dove mi troverete anche lì come Maullo941 Detto questo signori, non perdiamo altro tempo e con il nostro DJ Frankie in console, pronta a esultare, partiamo con il video Ok signori, allora è uscita la nuova patch, il nuovo aggiornamento di Brawl Stars Infatti in basso a sinistra potete vedere che c'è scritto nuova stagione Quindi vediamo un attimino che cazzarola è successo Allora, intanto andiamo in negozio, vediamo cosa c'è di gratuito che ci viene dato Vediamo se c'è qualcosa, soldi Ma che cazzarola, speravo un qualcosa di meglio, che ne so, qualcosa di più Noi non abbiamo né monete verdi, ne abbiamo solamente 30 Potremmo comprare dei potenziamenti ma non c'ho voglia minimamente Andiamo al nuovo Brawl Stars signori, andiamo alla nuova stagione E infatti si riparte da zero, che culo Ok, andiamo ad aprire la prima cassa, vediamo cosa ci riserva il fato Vediamo cosa riusciamo a trovare, monete, 102 monete, buono Punti di energia per Beryl, che non so chi sia, non ho mai toccato Punti di energia per il nostro bullo, per il nostro piccolo bullo E punti di energia per Stecca, ok Che, oh, arriva a 57, buono così, nessuno però riesce a potenziarsi più di tanto Ok, missioni, andiamo a vedere un attimino le missioni, che missioni abbiamo Se ne abbiamo qualche missione con, eh, qualche missione Queste sono, no, sono chiuse, ma che cazzarola Complete il livello di un assalto a Super City Perché hanno aperto Super City? C'è Super City, signori L'evento inizia fra due giorni, niente, me li sono persi tutti, va bene, ok Eh, io, aspettate, voglio vedere semplicemente un discorso di missioni Abbiamo le missioni con lui Eh, causa 100.000 danno con Frank Ok, questo lo possiamo fare, con Frank DJ lo possiamo fare Afferra gemme, sì, andiamoci a fare un afferra gemme con il nostro Frank, signori Così facciamo proprio il devasto, perché Frank non guarda in faccia a nessuno Se non ti piace la sua musica, lui ti passa sopra col suo martello, senza troppi problemi Andiamo, signori, all'avventura, all'avventura, senza paura Dai così, dai subito, martellate a tutti Martellate amichevoli a tu, martellate amichevoli a tutti Così, come se non ci fossero domani, martellate amichevoli Martellate amichevoli, sono morti già? Ma che, già sono morti tutti Dai, martellate amichevoli, vieni qua, zio Voglio essere, sono buono, sono buono No, l'ho sbagliata precisa, avevo la combo e l'ho sbagliata totalmente Allora, voi afferrate le gemme, io mi faccio il devasto più totale Dai così, dai così Come se non ci fossero domani Fallo fuori, ok, ok Devasto totale, devasto totale, devasto totale Dai così, come se non ci fossero domani, signori Franky Energy Il nostro Franky Energy alla console Abbiamo già sette gemme, io non ne ho raccolto nemmeno uno Sto pensato a fare danni come se non ci fossero domani Siamo un distruttore Osti, ho l'orso gli occhi, te lo faccio fuori io l'orso gli occhi Bello così, bello così Non mi preoccupate, non mi preoccupate Sto arrivando a proteggere tutti Franky Energy con la sua musica DJ, DJ Energy Ma non c'è più nessuno, sono morti tutti Dai così, dai così, contro la rovescia Già abbiamo raggiunto il nostro Dai così, super combo Ammazza pure qui l'orso gli occhi Dai così Penso che i danni siamo riusciti a causarli Penso Ho come l'impressione, siamo morti 10 gemme a 11 11 gemme a 1 10 gemme a 11 Che cazzo lo dico, 11 gemme Partita conclusa Prima partita portata a casa Dai così Il miglior in campo è stato Dom Va bene Non ci prendiamo assolutamente di invita Franky Energy esulta come se non ci fossero domani Abbiamo costato 28.000 punti Non penso che riusciremo a farcela A raggiungere l'obiettivo oggi Però, 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 però Dai così, portiamo delle coppe a casa Arriviamo a 601 coppe Forse possiamo sboccare qualche altra cosa qui Prendi Premio Punti Energia Eh, per chi? Posso scegliere io Per Franky Hai Energy Per forza Franky genererà Punti Energia Ovvio Dai così Quanti punti mi dai zio? 25 Dai che lo miglioriamo Dai così Il nostro Franky diventa Nuovo obiettivo A 650 coppe E non c'è 650 coppe Franky ti dobbiamo migliorare Dai Voglio che fai ancora più il devasto Dai così Franky livello 2 Buono, buono, buono Franky livello 2 Dai così, dai così Dai così Andiamoci a fare un'altra partita Nella ferra gemme, signori Altro giro, altra corsa Altro giro, altra corsa Tutto questo Mentre voi state vedendo questo video Io sto registrando il Sto montando Minecraft Che avete visto ieri E mi chiede due ore Per completare la registrazione del video Spero che Spero che ieri Abbiate visto il video di Minecraft In tempo, signori Lo spero Lo spero Dai così col devasto Devastiamo tutto Franky Franky è energy Dai così Come se non ci fosse un domande Distruggiamo tutto Recupera quelle gemme Allora Là sotto c'è un bomberino Che rompe le scato Andiamo a ammazzare quel bomberino Che se ne sta Nascosto Ecco Visto Ti ho visto Volevi scappare Sono morto No Abbiamoci ammazzato Il bomberino Ci ha ammazzato proprio lui Siamo finiti malamente nel suo acido Però abbiamo Un colpo Messo da parte Abbiamo il colpo messo da parte Il bomberino Guardate che si va a nascondere il bomberino Mannaggia a lui Il bomberino sta là nascosto E tira le bombe E io ti Ti devasto così Bomberino Così impari A non farti vedere Impari a stare nascosto A non farti vedere Recuperi questa gemma Oh Meno male Quanto meno una gemma L'abbiamo presa signori Quanto meno una gemma L'abbiamo presa Allora c'è Ancora bomberino Dai così Col devasto totale Devasto totale Come se non ci fossero domani Fallo fuori Bello così Dobbiamo fare un sacco di danni Signori Un sacco di danni Un sacco di punti Come se non ci fossero domani Dai così Dai così Fuori qua bomberino Fuori anche lui Devasto totale Dai con la musica Palla Dai così Dai così Mi è arrivata Mi è arrivata una spallata Che mi ha ammazzato Mi è arrivata una spallata Che mi ha ammazzato Malamente Però va bene Siamo 11 gemma 1 Partita conclusa Seconda partita portata a casa Prendi e porta a casa Ancora il migliore è stato un altro Non siamo stati noi i migliori E va bene Non fa nulla Non fa nulla L'importante era la vittoria Ascoltare musica buona Altri 20.000 punti per noi E niente Quindi non riusciremo a completare L'obiettivo Speravo di riuscire a portare a casa Un obiettivo E invece Non ci riusciremo Anche se manca poco Forse riusciamo a sbloccare un pass Un pass forse riusciamo a sbloccarlo Facciamo l'ultima partita Dopodiché andiamo A sbloccare il pass Vediamo cosa ci riserva Cosa ci riserva Il pass Dai così Devasto Devasto totale Devasto totale Ammazzali tutti Come se non ci fossero domani Così Stiamo proprio sull'entrata delle gemme Così le prendiamo anche noi Porca miseria Occhio a bullo Occhio a bullo Occhio a bullo Occhio a bullo Devasto totale Devasto totale Contro nei confronti di bullo Devasto totale Nei confronti di bullo Uccidilo con la super mossa Bello così Certo che Certo che Franchi ha energy E' terribile E' un distruttore nato Cioè non lo fermi Nei confronti di niente Aspetta che sto leggermente morto Fatemi recuperare un po' di vita Fatemi recuperare un po' di vita Aspettate che arrivo Aspettate che arrivo Ad aiutare Alla causa Vengo ad aiutare la causa Dai così col super colpo Questo l'abbiamo fatto fuori Ok posso recuperare qualche gemma pure io Signori Restate a pigliare tutti voi Ne ho preso solo una Oh finalmente ne ho preso due Ne ho preso due Ne ho preso due Dai così Dai così Devasto 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 Ok io c'ho due gemme E mi sembra un ottimo risultato Riusciamo a fare qualche altro punto Prima che finisce la partita Sì Sì Riusciamo a fare qualche altro punto Dai col super colpo Ma non ci sta nessuno lì Vai dai Facciamo fuori a bullo Facciamo fuori a bullo Pidiamoci questi punti Pidiamoci questi punti No ce l'hanno ammazzato prima Eh vabbè Che carino Il discorso della vita Recuperiamo la vita Non sapevo che un tizio Potesse mettere il recupero vita Ma riusciamo Oh partita conclusa Tre vittorie su tre signori Il migliore è stato Kaot Kaot Chi è quella lì? Jasmine Chi è Jasmine signori Che simpatica Dai così Saliamo ancora Pidiamo tanti bei punti Arriviamo a 70.000 Va bene Va bene Per questo video però ci fermiamo qui Prossimo video Recupereremo l'altro Completeremo la missione Andiamo semplicemente a sbloccare il pass Con una cassa normale Vediamo cosa ci riserva il fato Anche con questa cassa Altre monete per noi Altri punti di energia Per l'orso Yogi Che sale a 67 su 130 E punti di energia Per il messicano pazzo Che sale a 93 su 130 Va bene signori Abbiamo ricevuto qualche cosa di carino Detto questo Io vi ringrazio Ho guardato questo video Vi ringrazio per il like Per i momenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo contenuto Bella raga Alzate le mani alla frenchi Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Ciao raga Grazie.